A distanza di tre giorni dalla precedente spaccata, il bar di Haaf di via Romea Sud all'altezza della rotonda Gran Bretagna è stato nuovamente visitato dai ladri, nel quale della notte appena trascorsi i malviventi hanno sfondato la porta vetrata su cui era stato montato un vetro temporaneo in attesa che fosse pronto quello antisfondamento e sono entrati nel locale. Senza perdere tempo, protetti dalla struttura esterna del Deor, si sono diretti nella piccola stanza dove si trovano le due slot machine e le hanno letteralmente sventrate, portando via il contante contenuto nelle slot e nelle macchinette cambia soldi. Sconsolato il proprietario del locale ha commentato Non so più cosa fare, dovrò dormire nel bar per evitare che entrino per la terza volta.